Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli integratori alimentari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano, e commentare con le tue esperienze personali, in base agli integratori date e assunti, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo, l'integratore alimentare, Capillaven. A cosa serve? Capillaven ha un integratore appartenente alla categoria degli integratori per il benessere del microcircolo. È commercializzato in Italia dall'azienda VKF Italia SRL. Informazioni commerciali. Titolare. VKF Italia SRL. Concessionario. VKF Italia SRL. Categoria di appartenenza. Integratori per il benessere del microcircolo. Forma farmaceutica. Compressa. Confezioni. Capillaven 30 compresse. Indicazioni. Capillaven a marchio registrato. Contiene estratti totolato di ipocastano, mirtillo, centella con vitamina C e luteina. L'ipocastano, il mirtillo e la centella favoriscono la funzionalità del microcircolo. Inoltre, il mirtillo favorisce il benessere della vista. La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e al normale funzionamento del sistema nervoso. Capillaven a marchio registrato può essere assunto in gravidanza rispettando i dosaggi consigliati. Modalità d'uso. Si consiglia l'assunzione di uno compressa al giorno. Descrizione e caratteristiche. Estratti titolati di ipocastano, mirtillo, centella con vitamina C e luteina. Ipocastano. Dalla corteccia si estrae un composto vegetale. Lescina, in grado di aumentare la resistenza e diminuire la permeabilità del capillari, azione anti-edema. Lescina viene impiegata in presenza di gonfiore e pesantezza agli arti inferiori. Poicacopiraita è in grado di aumentare la tonicità delle pareti dei vasi sanguigni e favorire la contrattilità delle vene, riducendo il restagno di sangue negli arti inferiori e facilitando il ritorno del sangue al cuore. Lescina possiede inoltre. Proprietà antinfiammatorie. Mirtillo. Adatto dal frutti di vaccini un mirtilius contenenti antocianosidi, flavonoidi, pectine. Vitamina C e tannini. Questi composti inibiscono gli enzimi che distruggono il collagene e i tessuti elastici del capillari e del vasi, esercitando proprietà capillaro protettive per il trattamento dei disturbi circolatori e nei casi di fragilità capillare. Il mirtillo favorisce il benessere della vista, proteggendo la retina dai danni e contrastando la fragilità capillare oculare. Centella. Adatta dalle foglie di centella asiatica, contenenti triterpeni, asiaticoside, flavonoidi, aminoacidi e 0-110 essenziale. La centella è in grado di aumentare il tono venoso e di esercitare un'azione protettiva sulle pareti dei vasi sanguigni. La centella viene impiegata anche per il trattamento della cellulite. L'estratto di questa pianta migliora la circolazione venosa capillare a livello cutaneo. Vitamina C. Partecipa a molte reazioni metaboliche e alla biosintesi di collagene, favorendo la corretta funzione dei vasi sanguigni, ossa, cartilagini, gingive, pelle e denti. Grazie all'azione antiossidante, la vitamina C innalza le barriere del sistema immunitario. Il suo apporto, inoltre è fondamentale per la neutralizzazione del radicali liberi, proteggendo così le cellule dallo stress ossidativo. Luteina. Ha un carotenoide che nel nostro organismo si trova principalmente nella macula lutea, retina e nel cristallino, dove agisce come filtro per proteggere l'occhio dalla luce solare. Questo pigmento risulta fondamentale per il corretto sviluppo della retina del feto e del neonato. Durante il periodo di allattamento, la mamma fornisce il giusto apporto anche al bambino. Inoltre, la luteina ha un potente antiossidante naturale che combatte l'azione dei radicali liberi e protegge la parete dei capillari. Avvertenze. Gli integratori non sono intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata di uno stile di vita sano. Non eccedere la dose consigliata. Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Può essere assunto in gravidanza rispettando i dosaggi consigliati. Conservare a temperatura ambiente, non superiore al 25 gradi. Evitare l'esposizione a fonti di calore localizzate, al raggi solari e il contatto con l'acqua. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Allergeni senza glutine. Ingredienti vitamina C protetta, acido L-scorbico, ipocastano, esculus ipocastanumelle, corteccia ES, TLT. 4% escina, cellulosa microcristallulna, mirtillo, vaccinium mirtillusl, fruttole ES, TLT, 25% antocianosidi, centella, centella asiatica, L, URB. Erba ES, tit 4% asiaticoside, idrossipropil cellulosa. Agenti antiagglomeranti. Sali di magnesio degli acidi grassi. Biossido di silicio, luteina PLV tit. 10%. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento ci vediamo al prossimo, integratore alimentare esaminato.